salve a tutti ragazzi sono zwillix e oggi siamo qua con un altro clickbait riguardo gtsi dove potrei dire delle cose concrete come anche delle stronzate chiaro faccio questo video per fare visual però sapete che quando io parlo di qualcosa lo faccio perché comunque voglio trasmettervi delle idee logiche no e quindi anche oggi mi ritrovo a parlare di gta 6 perché sono state trapelate delle informazioni dei dettagli e anche dei concetti che rafforzano la teoria che questa foto è una foto di gta 6 e le ho trovate abbastanza interessanti abbastanza curiose da volerle condividere sul canale lo sapete che io comunque non mi metto a fare i video dove vi prendo per piuttosto veramente ragazzi cioè non faccio video e partendo con un breve riassunto potete saltare questo video se volete vedere il video effettivo perché comunque è giusto fare un riassunto per chi non sa bene questa cosa di della foto di gta 6 in pratica su gta san andrea stefinite edition si dice che all'interno del gioco ci sia una foto del presumibile gta 6 questo questa foto dove si trova si trova lì il prob in locale vicino l'area 69 è praticamente nel gioco originale non nella trilogia sia chiaro dopo ci arrivo esiste una serie di foto dove appunto nel gioco originale vengono rappresentati degli avvistamenti di alieni ufo a giro per la mappa di san andreas in questa trilogia è chiaro che l'easter egg è sempre rimasto quello sostanzialmente perché la posizione è sempre quella le foto sono sempre lì il bar è sempre quello ma stavolta in questa trilogia le texture delle foto non sono di gta san andreas ma bensì sono di gta 5 di red dead redemption 2 e di una locazione ignota di un gioco ignoto che ancora oggi non conosciamo e che in teoria questa diciamo foto di questo gioco ignoto tra virgolette di questa locazione sempre tra virgolette ignota questa foto di questa locazione ignota nella vita reale in teoria dovrebbe essere in florida e proprio per questo sta circolando su internet in particolare su gta forum questa voce che questa foto è una foto di gta 6 potete trovare altri maggiori dettagli nel video che vi lascerò in descrizione perché altrimenti dovrei rifare lo stesso video due volte e adesso passiamo al video vero e proprio su gta forum su un membro di nome igro bar ha scovato la posizione della vita reale che rispecchia maggiormente la foto di gta 6 dovete tenere bene a mente un dettaglio importantissimo perché sennò altrimenti potreste pensare che non ha senso questa cosa che vi dirò riguardo la foto di gta 6 e la foto nella vita reale tenete bene a mente che rockstar games nei propri videogiochi non è che copia incolla il mondo su gta nel senso che le posizioni della vita reale vengono costantemente modificati e ritoccati con qualche dettaglio messo qua e la modificato aggiunto rimosso insomma prendete prendiamo come esempio grove street se notate bene il grove street di gta 5 è diverso da quello nella vita reale ed è ancora più diverso il grove street di gta san andreas rispetto a quello nella vita reale perché come avete visto insomma grove street di gta san andreas è veramente cioè è tutta un'altra cosa ok nella vita reale però se prendiamo comunque gta 5 che è anche meglio ok che comunque anche un gioco più recente rispetto a san andreas anche se comunque sì ci sono molte similitudini e a primo impatto possiamo capire che questo posto è l'ispirazione della creazione di grove street di gta 5 non sono comunque completamente uguali come vedete le posizioni e il design delle case nella vita reale sono pur sempre differenti da quelle in gioco oppure prendiamo un esempio un po più facile questo edificio di gta 5 come vedete l'edificio di gta 5 è ispirato a questo edificio nella vita reale ma non è uguale identico e basta capirlo dalla struttura del recinto come anche dagli alberi ad esempio quindi tenete bene a mente questo fattore che rockstar games non copia e incolla mai il mondo nei propri videogiochi adesso possiamo passare alla foto nella vita reale che sarebbe quella più simile alla presumibilmente foto di gta 6 quello che ci fa capire che magari questa potrebbe essere la foto giusta o comunque anche la posizione della vita reale esatta è innanzitutto la posizione degli alberi nello sfondo che guarda caso sembra precisa geometricamente parlando sì in game c'è un albero centrale ma tutto sommato come vedete la simmetria degli alberi nello sfondo è sempre quella poi abbiamo il layout della casa che è ritoccato certo però come vedete l'ispirazione è sempre quella la posizione del garage la porta le finestre all'occhio così di primo impatto sembrano comunque uguali nonostante non lo siano al cento per cento ci si vede che c'è una forte ispirazione questo che voglio dirvi l'albero davanti la casa i cespugli insomma tutti questi dettagli ci portano a pensare che sia la foto del prossimo gta ma la cosa più importante in assoluto ragazzi è il fatto che il motore grafico di questa foto è di red dead redemption 2 ora non lo dico io ma ne hanno parlato su gta forums e come vedete effettivamente sembra così sembra proprio quello ed è molto importante questa cosa perché innanzitutto perché il motore grafico di red dead redemption 2 e non di gta 5 perché usare il motore grafico di red dead redemption 2 per creare una casa moderna perché ragazzi non potete mai dire che questa foto è di red dead redemption 2 come fanno delle case così moderne essere presenti in un gioco di un'era se così possiamo chiamarla tra virgolette antica è impossibile no non potevano mai esserci nel nell'era del far west case così moderne così a scolgarage poi cioè che cazzo parcheggi un cavallo che cazzo è il cavallo la macchina cioè quindi dai ragazzi perché no perché red dead redemption 2 quello che voglio dire perché ora vorrei ricordarvi una cosa il primo red dead redemption ha molte similitudini con i movimenti di gta 5 red red redemption 1 è comunque uscito tre anni prima di gta 5 quindi mi viene da pensare che qui rockstar games sta lavorando a gta 6 prendendo come struttura iniziale del gioco il motore grafico di red dead redemption 2 ed è molto plausibile come teoria perché in primis è un motore grafico della madonna e probabilmente se ne ricreassero un nuovo da zero non verrebbe mai come quello di red dead redemption 2 logico che gta 5 non è uguale al primo red dead redemption e quindi è chiaro che adesso non è che si metteranno a fare gta 6 copiando incollando il motore grafico di red dead redemption 2 anche perché se fosse stato così tutti quanti ora probabilmente staremmo giocando a gta 6 è importante sapere che è stato utilizzato il motore grafico di red dead redemption 2 per creare questa foto a proposito di questo in una recente intervista allo zio rich rosado produce che tanto zio non è comunque perché hanno fatto una trilogia un po po così cosa non producer comunque tipo producer musicale ma della programmazione comunque vi stavo dicendo rich rosado ci ha svelato che gli elementi di gioco i cosiddetti asset sono stati riutilizzati dai giochi della trilogia originale oltre che dallo stesso gta 5 e questo ci fa capire che il rockstar lavora ai propri giochi prendendo come punto iniziale elementi dei suoi giochi precedenti e non creando da zero un gioco completamente nuovo proprio come call of duty senza quel motore grafico call of duty probabilmente non sarebbe più call of duty come gta non sarebbe più gta e grazie a questa intervista rich rosado ci conferma che la grove street games ha avuto essenzialmente accesso a questi elementi quindi le cose sono due o grove street games ha inserito questa immagine con comunque il permesso della rockstar oppure è stata la stessa rockstar games che ha voluto ritoccare una delle foto del bar inserendo questa immagine e ripeto che rockstar games non copia in colla il mondo e se rich rosado ci ha detto che gli elementi gli asset della trilogia sono stati riutilizzati questo significa che anche in questa foto rockstar games ha riutilizzato un asset di uno dei suoi giochi per appunto creare questa foto è proprio come guar ma a quanto pare in questa foto è stato utilizzato il motore grafico di red redemption 2 giusto per confermare che questo sia florida e non una posizione alla caccia in america potete anche andare su google maps voi stessi io vi lascio qua sotto non so se poi diciamo che potrei avere problemi con youtube mostrando l'indirizzo di casa di questo posto quindi aprite il link in descrizione ok piccolo riassuntino grazie a questa foto possiamo capire che red redemption 2 il motore grafico proprio come sono stati utilizzati degli asset del primo red dead per gta 5 mi potrebbe essere che gta 6 avrà degli asset di red redemption 2 ma soprattutto la colla la locazione ci conferma che è in florida a miami il posto di cui viene riferito in 70 mila leaks di gta 6 e tanti altri dettagli parlati nel video della foto di gta 6 precedente e con tutti questi piccoli dettagli uniti ragazzi non c'è bisogno di dirlo ma per chi non ci fosse ancora arrivato sembra che gta 6 si stia avvicinando e che la località di miami è sempre più plausibile ora che sappiamo oltretutto che il motore grafico del secondo red dead è stato sfruttato per creare una casa moderna diciamo tra virgolette in stile gta è chiaro comunque ragazzi sia chiaro che gta 6 non sarà uguale identico a questa foto ci mancherebbe altro anche perché purtroppo ci vogliono ancora anni prima di vedere gta 6 con il passare del tempo logico che la grafica di questa foto se sarà gta 6 verrà ulteriormente migliorata ed elaborata magari addirittura gta 6 uscirà in un periodo storico della realtà virtuale no quindi insomma potete capire che possono cambiare tantissime cose dagli anni futuri però può anche essere che in gta 6 molto probabilmente vedremo la stessa identica casa con gli stessi identici dettagli non con lo stesso motore grafico ma comunque potremmo trovarla chi lo sa lo scopriremo solo tre anni e magari tre anni potrete dirmi willy sei un grande hai fatto bene a condividere queste cose oppure willy battene affanculo